Partiamo da dove ci siamo lasciati con la scorsa sessione per coloro che non hanno partecipato alla missione Phoenix Allora, cosa è successo nella scorsa sessione? La scorsa sessione, come avrete visto dai video, spero, è stata una battuta di caccia, molto semplice in realtà Finché le cose sono diventate meno semplici, cioè fino a quando l'endurance non è stata circondata da delle navi pesantemente armate E per motivi interni che sono stati totalmente discussi e affrontati, la nave è stata seriamente compromessa e disabilitata È stata rimorchiata fino alla base Bravo, è stata considerata relitto E così doveva rimanere teoricamente, fino ad una sessione di riparazione Però, delle anime pie, che sto per andare a ricordarmi perché scusate non me le ricordo, mi ricordo soltanto alcuni di loro Rickboom, Fannikin, XCOM, che non è presente, Nicolò, Gaster e Armin, con i loro rispettivi gradi Loro hanno prestato servizio per loro scelta nella ricostruzione totale dell'endurance, utilizzando i materiali qua sulla base Ovviamente li ringrazio, assolutamente, perché hanno totalmente ricostruito la nave E hanno permesso di fare sostanzialmente questa sessione come se non fosse successo nulla Però in realtà le cose sono successe ragazzi, perché alla fine di quella sessione Io formalmente, come da procedura, avevo teoricamente consegnato, cioè almeno dato via volontariamente il mio grado E la mia nave, nonché mi ero sospeso dal servizio e degradato a capitano Per una scelta del rimanente comando di flotta, e vista la riparazione dell'endurance, hanno deciso di ridarmi sia la nave che il rispettivo grado E quindi sostanzialmente rimettermi in carica come ero prima, quindi come ammiraglio Ringrazio ovviamente anche il comando di flotta, ma soprattutto coloro che hanno prestato servizio nella ricostruzione dell'endurance Perché senza di voi questa sera saremmo dovuti rimanere lì, probabilmente senza nemmeno finire la ricostruzione Semplicemente lavorando nel ricostruire la nave che io praticamente ho condannato Quindi vi ringrazio ancora tantissimo, ringrazio il comando di flotta e buona fortuna a noi Ok, detto questo, per quanto riguarda la sessione di oggi, ci sono ancora un paio di cose da notare Prima di tutto molti di voi avranno visto scomparsa sostanzialmente la Nomad Questo perché dopo giorni di trattativa sostanzialmente e di, com'è che si può dire, discussione In cui abbiamo semplicemente valutato e fatto svariati rapporti di costi-benefici Abbiamo deciso di decommissionare la costruzione della Nomad Mark I Per optare ad un progetto un po' più viabile, un po' più piccolo e contenuto sostanzialmente Il progetto è ancora in lavorazione, il team di costruttori verrà poi ricontattato dopo Per ovviamente ulteriori richiedimenti Però sostanzialmente la Nomad Mark I è stata decommissionata E la Nomad Mark II va soltanto terminata come progetto e appunto commissionata Qua da qualche parte ci sono ancorati dei relitti Quei relitti sono stati, tra virgolette, messi in sicurezza Cioè non sono stati messi in sicurezza Dobbiamo praticamente controllarli all'interno che siano sicuri Dopodiché smantellarli Una volta fatto questo, quando saremo divisi anche in squadre Potremmo tranquillamente uscire per la solita battuta di caccia Che ci servirà per accogliere materiali per il prossimo progetto Nomad Quindi adesso procederemo con la divisione in squadre Che avverrà un po' diversamente da normale Perché vedete, oggi con il ritorno del capitano Zelgran Ci sarà anche la messa in moto di nuovo della Perseverance E a tal proposito quindi dovremo formare tre equipaggi Quindi ci sarà la squadra Endurance, la squadra Perseverance e la squadra Excelsior A meno che il comandante Armin non vuole rimanere qua sulla base E tenersi una squadra però poi in quel caso Non lo ritengo necessario Ok perfetto, quindi ci saranno tre squadre Adesso andremo a fare la divisione Le squadre si divideranno appunto per lavorare sui relitti Dopodiché si partirà per le battute di caccia Direi che possiamo suddividerci Perfetto, sì Capitano Caster, lei che cosa vuole fare durante questa sessione? Io inizierei Esce subito? Io inizierei no, a dare una mano con la smegiatura Ok E poi dopo iniziamo appunto Perfetto, ok Giusto per sapere che cosa faranno tutti Ottimo A meno che, una cosa però, io non vedo il secondo relitto Quindi se è soltanto uno esco direttamente Allora, il secondo relitto è agganciato con un landing gear Lo dovresti vedere se ti avvicini Va bene Perché è più piccolo Molto più piccolo Ah, affermativo Ma noi siamo solo in quattro No, c'è anche Armin Te lo rubo solo un secondo e poi te lo restituisco Va bene, signori, seguitemi Diamo coraggio in miei signori, scusatemi C'è il primo di uscire direttamente Sendo che il lavoro comunque basso Ok, va bene Accordato, capitano Caster Permesso di lasciare la base E buon divertimento equipaggio Bene, dividetevi pure Ragazzi, iniziamo a smerigliare Caricate tutto e mettete all'interno di un container Che possiamo Che dovete marcare, eh Capito? Lo dovete marcare E lo dovete rinominare Fate quel cazzo che vi pare Basta che lo troviamo Oh merda, mi sto incastrando dentro al relitto Sì, è stretto qui Sperità L'avete trovato un container? Ok, ho dovuto fare una pulizia veloce Ho dovuto fare una pulizia veloce Armin Quindi Cosa è successo? Eh, c'erano parecchia gente in arrivo Dove siete? Non abbiamo trovato quindi un container Da riempire No, lo sto per creare io Siamo ai relitti Armin Ci siamo messi sui due lavorare Perfetto Perché non vi vedo io? Fate Avete tutti quanti le antenne spente? No, ce le abbiamo No, ok Ma adesso l'ho accesa No, 170 metri, perfetto Ok Eric, fallo grande il container Eh, non ho spazio per posare la roba al momento BTS chi? Io l'inventario sono qui Eh, Nicolo Sì, Nicolo Posso ricaricare l'energia? Eh, in qualsiasi terminale trovi, sì Perché l'hai spaccato, Salvatore? Capitano, porto cargo pesante qui che è possibile ricaricare energia e gas Assolutamente sì Scusa di Cosa è successo, ragazzi? E ha sfondato il container che stavo costruendo con la smerigliatrice Non c'è spazio per uno grosso dentro, quindi però ne faccio uno piccolo Ma sì, ma anche fuori A parte che hai sentito Armin che sta portando il cargo qua Cargo pesante all'interno ha due container grandi in griglia piccola Ammiraglio e gold, comandante Armin Sì Se dovete riempirli Capitano La prima proposta per questa sessione Dica Se ve la sentite, ditemi voi Forse con l'aiuto della Perseverance potremmo cercare in tre navi di assaltare la La nonce, segna, quello viola Il conto, quello viola Se tutti e tre insieme Il guard Potrebbe venire qualcosa Sì, potrebbe venire qualcosa di carino probabilmente Siamo in tre navi Come sarà Allora Se vuoi possiamo farlo L'endurance specifico sarà dietro l'excelerazione Sì, in qualsiasi caso però dobbiamo rimanere tutti nella stessa chat vocale Ok? Perché se no non dobbiamo un cazzo Aggiungo una cosa importante Se volete farlo Visto che è sponato qualcosa come 20 minuti fa Dovete pensarci in fretta Perché potremmo anche adesso non essere in tempo Ma generalmente tendono a sponare più di una volta a sessione Cioè Affermativo Vogliamo rischiare di andare adesso E mollare qua i relitti I relitti saranno sempre qui ad aspettarci Capito? Allora, mamma mia Non saprei Zalgran cosa ne pensa? Ok, il cargo è qua Zalgran è impegnato con la Che è che continuo a montare cose senza poi avere lo spazio per i componenti Allora, ad ogni modo Io sto fuori Un breve recap di quello che avete trovato su questa nave grande Ancora io devo esplorarla bene 9k di ghiaccio E tipo 60 unità di uranio Beh, ci aspettiamo anche componenti Armin Sappiro Molto bene Allora All'equipaggio La nave che vi ho portato Oltre ad avere i container Ha anche Dei container di Dei serbatoi di idrogeno Quindi se finite i gas Entrate nel cockpit E vi ricaricate Allora Ammiraglio Sulla navetta piccola C'è una quantità generosa di uranio Sull'onda dei 10.000 E C'è un cargo container Con dei missili E dei lingotti Ricevuto Perché mi sta dando queste informazioni? Perché A breve verranno caricate sulla navetta E portate in stazione Ah ok, perfetto Ricevuto Teoricamente abbiamo detto che si potrebbe fare E forse Come ha detto Zagank Vorrebbe aspettare che voi Facciate i lavori sulla endurance Non sappiamo Quali lavori dobbiamo fare sulla endurance? Con gli scudi Fare i lavori Sull'endurance con gli scudi Vuol dire aumentare gli scudi, giusto? Esatto E non sono già stati fatti con le ricostruzioni È stato aumentato di poco Poi hai detto che volevi occupartene tu Sì ma Nel senso occuparmene io Vuol dire che devo prendere la nave E rimodificarla in creativa E fare il progetto Per questo ti sto dicendo Io da quello che ho capito Attualmente Hai forse 50.000 di scudi Non hanno montato solo un Un coso piccolo in più E basta Se vuoi fare una modifica Se vuoi fare una modifica rapida Gold In creativa io avevo sostituito Due Due generatori di scudo piccoli E ne avevo messo uno grande Tutto fullato E non è neanche tanto brutto Nel ponte scudi Quanti scudi hai ora In totale 500.000 forse E mezzo milione 470 Con la modifica Arrivi a 1.200.000 circa E ragazzi Fare questa modifica Prenderà del tempo E non poco No no Ma ora In questo momento Se andassimo ora Quanti scudi hai? 470.000 Giusto? Fermate io Io Signori Se vogliamo andare Va bene Io ci sono Combatterò al meglio Delle mie capacità Il mio equipaggio Lo squaio vivo Ma si va Però io ho forti dubbi Che Non perdiamo Alla grande O comunque Perdiamo navi Perché io vi ricordo Quella È una bestia Appunto Io so che in realtà Se mi metto vicino E mi prende qualcosa di quella Io sono finito Per questo Utilizzerei soltanto Iraq Ma non è una scelta viabile D'utilizzare Iraq Perché Iraq Distruggono e basta No ma soprattutto Io ti ricordo Che in 900 mm Ogni colpo Di mezza Letteralmente La Gli scudi E appunto Anche la Perseverance Per esempio Che poi fra l'altro È anche lenta Non pensare Che abbia Chissà che resistenza Davanti a una bestia Di quel tipo Poi ragazzi Se volete Si fa Si fa Cioè io Sono d'accordo Si vuole fare Si fa Facciamo così Se non vi sentite sicuri Possiamo aspettare Che la Che l'endorons Arrivi a un livello Adeguato di scudi Io conoscendo Le navi che spawnano Mi azzarderei Però Mi azzarderei a provare Al limite Possiamo sempre Indietreggiare La nave Despauna Anch'io E se non Se non dovesse Despaunare O vogliamo Riportarla Comunque a casa Ricordiamoci Che siamo Piene di rack Quindi possiamo Distruggerla Per l'equipaggio Almeno È una vittoria Anche se Ce ne andiamo Con le mani in mano È un qualcosa Di diverso A mio parere È un qualcosa Che porta Un attimo Di novità Capito È un qualcosa Di Si si no Ragazzi Io ve l'ho detto Senza Mi sembra anche Di essermi spiegato Se volete farlo Io Non Non dico di no Anzi Permesso che ho detto I miei dubbi Per ovvie ragioni Non mi sembra Che abbia detto Stronzate Però se lo si vuole fare Si fa Ragazzi Sono due sì Un no O un forse Quello che è La milaglia Cosa dice Io vi dico però Nell'ingaggio Non mi metto A portata di cannone E non ci entrerò mai A portata di cannone Nemico Se entri A portata di cannone Perdi la nave Appunto Posso essere sincero Io con 4 colpi di 300 Vado giù Quindi comunque Anch'io sarò a portata di cannone Ma fino a un certo punto Ragazzi Ragazzi Non è che siamo stupidi Non ci mettiamo là davanti E ci fermiamo là A farci colpire Ragazzi Va bene Sappiate che Anche io Che ho più resistenza Dato che è ai 900 mm Gli scudi andranno giù Molto velocemente E io non ho La vostra capacità Di movimento Eh appunto Dobbiamo un attimo Affidarci Alla L'abilità Del pilota Nel caso Nel mio caso Magari mi va bene Perché la nave È abbastanza Reattiva Abbastanza Nel caso Delle Excelsior Siamo a posto Però nel caso Della Perseverance Come facciamo Fai andare avanti I caccia Non ce li ho neanche I caccia I caccia Se vanno avanti In questo momento Esplodono Esatto Cioè figure I caccia lì Cioè E allora scusa Qual è il tuo piano Sparare con i 900 mm Da lontano Il mio piano Guarda che Guarda se ci organizziamo Bene Magari ci mettiamo In velocità Relativa Opposta A quella Del tipo Non ci prende Mezza volta E noi lo colpiamo Perché loro Sparano 800 metri Eh va bene Allora proviamoci Però dobbiamo Però dovete deciderla adesso Perché è già passato Tanto tempo Eh ragazzi Io vi dico Dobbiamo Dobbiamo pilotare bene L'unica cosa è quella Zalgran La Perseverance È pronta per partire Cioè Te entri nella sala di comando E puoi partire Senza fare un controllo Dei sistemi Allora Un controllo Lo faccio sempre Comunque Intendo una procedura Intera Le ultime due sessioni Io non c'ero Non l'ho neanche Parcheggiata io lì È intatta La nave Esattamente come Sì ma Ho le munizioni ancora Ho il uranio Affermativo Perfetto Allora sembra che ci sia tutto Va bene Ok Allora ragazzi Ci sentiamo Va bene Quando diciamo Siamo pronti Ci sentiamo In bootcamp 4 Tutti quanti Perché dobbiamo stare In vocale di diretta Va bene Andiamo Perfetto Signori Mi serve un attimo La vostra attenzione Abbiamo parlato Con il resto Del comando di flotta E sostanzialmente Quello che faremo adesso Sarà un attacco Imponente A Sostanzialmente La miraglia Degli orcs Per quale motivo Lo vogliamo fare Perché è una nave Molto grande Se riusciamo a conquistarla Sono tanti Tanti materiali Il fatto è che sarà Un'operazione congiunta Con tutte le navi Della flotta E sarà la prima volta Che la flotta Vola come una flotta Stessa Cioè come Proprio come Una vera e propria flotta Quindi Visti i problemi Nella scorsa Sessione Abbiamo deciso Che Sebbene L'endurance Sia L'ammiraglia Non starà A capo Della formazione Ma bensì Sarà l'excelsior A rimanere A capo Della formazione Principalmente Le nostre tattiche Si baseranno Su Pilotaggio E Colpi ben assestati Ragazzi Mi aspetto Che i cannonieri O chi Ne farà le veci Tiri bene Con quei cazzo Di cannoni Perché letteralmente Dobbiamo tirare giù Armi come 300 900 Millimetri Rack Subito Perché quelli lì Sono Sono armamenti Che dimezzano Gli scudi Quindi La priorità massima D'ingaggio Per i cannonieri Sono gli armamenti nemici Nel frattempo Ai posti di combattimento Nell'endurance Nel frattempo Che l'ammiraglio Finisce di parlare Smettete di fare Quello che state facendo Svuotatevi E Recatevi sull'endurance Immediatamente A tal proposito Iniziamo subito A A dare i ruoli Quindi Chi di voi ha un URR Rimarrà come URR Ma Nel tempo Livro Cioè quando non starà Facendo l'URR Sparerà L'ordine è Di attaccare Le torrette Più grandi Quindi 300-900 mm E rack E su quello Non avete Davvero Nessun tipo di limite Ok Se vedete un 900 mm Se vedete un 300 mm Voi lo colpite Amiraglio Gold Mi scusi per il disturbo Io ho avvisato il mio equipaggio Voglio sapere Sarà lei O sarà L'Excelsior A portarci Velocemente Con un jump Alla base Alfa L'Excelsior Non noi Ok Ci vediamo però Alla base Alfa Quindi in qualsiasi caso Andiamo tutti comunque Alla base Alfa Sì sì Partiamo dalla base Alfa Credo Rendezvous alla base Alfa Va bene Va bene Vado dal capitano Gaster E ci vediamo Lì A dopo L'Excelsior È la base Alfa Io non so cosa dirle Veniamo Se col suo permesso Vorrei far salire a bordo Già tutto Sì sì Faccia salire l'equipaggio E gli faccia prendere Ogni posto disponibile Va bene Perfetto Avviso Saliamo E poi rientro In un canale Per avvisarla Va bene Adesso Ci avviciniamo il più possibile Poi ci mettiamo già in formazione Xelsior sarà la punta di lancia Mi scusi Amiraglio A tutto l'equipaggio Per Severance Tutti i loro posti Intanto Abbiamo un contatto Nemico A 1.9 km In avvicinamento Non identificato Sembra in nave grossa Se capitano Può girare la nave Per puntare E in avvicinamento Contro la Perseverance Devi tipo girarti È sotto di noi Il contatto Sembra abbastanza grosso Quindi Un intervento Di entrambe le navi Sarebbe Alciare le difese Ricevuto difese attive In arrivo Ecco Va bene così Ok ce ne sono più di uno Tutti i miei Tutti i cannoni Dell'Eccelsior Iniziano fuoco Appena Invisuale Facciamo fuoco capitano Assolutamente sì Fuoco a volontà Tutto le difese attive Ok io sparo il Furious Two out Ragazzi ingaggiate Inghaggiate ragazzi Mi metto in mano Prevasiva Perché il capitano Zalgherano ancora Non è jumpato Priorità sul contatto Più grosso Ragazzi le difese Sono attive Non stanno sparando Voglio le difese Attive Tutte quante Capitano le difese Sono attive Deve essere Ma stanno sparando Come la volta scorsa Paragon Tenente Leon Panic Inghaggiate Parco Spagna Inghaggiate Sparate Ricevuto Colpita E disabilitata Ok Pensate alla Furious La Perseverance Ha jumpato Corretto Maragon Le difese Stanno sparando Non Prevasive In arrivo Uno stormo Di droni Ci fermiamo Sì capitano C'è un repulse Nelle nostre vicinanze Detriti Evitiamo Cerchiamo di evitarli Furious In arrivo Sulla nostra sinistra Capitano potrebbe Gere la nave A sinistra Di 30 gradi Affermate Io sono Ho comunicato Con il capitano Zalgherano Ha detto che loro Ne avranno ancora Per parecchio Andate voi avanti Excelsior Affermativo E soprattutto Dove cazzo siete Ok vi vedo Suggerisco una velocità maggiore Dopo che Excelsior Ci ha superato Sì appunto Unitevi alla formazione Dopodiché vi seguiamo Contatto Chi la cruza 300-900 Millimetri In avvicinamento Fuoco a volontà Fuoco a volontà Vedo fuoco pesante In arrivo Sulla Sull'exel Riceviamo un fuoco Di Hades E Gatling Niente di Sostanziale Danneggio la gondola Dei motori Dove sono collegate Dovrebbe Una torretta distrutta Fuoco in arrivo Capitano consigliamo Consiglio di allontanarci Dato che stiamo dicendo Affermate Bordata frontale In arrivo Capitano Ricevuto Siamo decisamente Fuori Fuori portata Ci teniamo A Due chilometri Un chilometro e otto Di distanza Ve lo dico Occhio a quel modulo Lanciate sulla destra C'è ancora una torretta Abbastanza grossa lì Sto cercando di targettarlo Ok Direi che ci teniamo A questa distanza Più o meno Ok ci siamo un attimo Allontanando Adesso li ingaggiamo Da decidiamo Sì Direi che sono dietro di noi Adesso Io continuo il tempo Io non li sto Chiamando Non li sto chiamando Perché se no Ogni tre secondi Dovrei dire No mi dovete chiamare Quelli importanti Ok abbiamo il posteriore Faccio fuoco sul posteriore Usa un po' Forse O un 300 mm I rack ci hanno preso Uh Ok Spero non sia troppo esteso Come danno Qual è la vostra situazione Abbiamo dimezzato la nave nemica Negativo Vedo soltanto un pezzo Ok sì L'avete dimezzata Ok sì sì Non hanno più propulsione Cessate tutti il fuoco Tutte le navi Cessate il fuoco La nave è disabilitata Negativo Non voglio dire quello Voglio dire È ancora abilitata Al movimento La propulsione Pare proprio Sì È ancora abilitata Non è cambiata Tanto la situazione Difendeteci dai Dalle minacce Sul perimetro Potrebbero attualmente Essere colpi Della endurance Dato che siamo in linea Ci conviene muoverci Per evitarli Capitano potrebbe muoversi Sulla parte destra Affermati Affermati Lo sto già effettuando La lavorazione Excelsior stiamo Stiamo disingaggiando Per problemi con Nemici minori Potreste cercare Di Individuare Le forchie In arrivo Capitano a questo punto Direi Di dare una squadra Da sbarco Perché Gli armi esterne Non se ne vedono Bordate in arrivo Ragazzi Ci rimettiamo in movimento Ragazzi Cercare di sparare No ai droni Che stanno mettendo In difficoltà La endurance E alle navi Sono fuori range 410.000 Ok manovre evasive Lasciamo che siano Le difese ausiliari A fare il lavoro sporco Ok Noi ci siamo liberati Dei bersagli minori Andiamo sul killacruza Ho ricevuto Abbiamo ragione Di credere Che i due divastator Siano stati disabilitati Vi informo Che il killacruza È gravemente danneggiato Quindi dobbiamo cercare Natino le fonti energetiche Perché quelle più esposte Le abbiamo tutti quanti disabilitate Ricevuto Una squadra da sbarco È già stata formata Negativo Stiamo andati in aspettando Perché ci sono ancora Difese attive La vedete? La torretta sotto Nello scafo In prua Affermativo Cercate di distruggere La torretta che ci sta sparando Mi ha detto La torretta distrutta Distrutta Si sposta molto Decisamente Posso rimanere io capitano Ok va bene Allora guido la squadra Endurance A te la plancia Armin Lato destro Rispetto alla bocca frontale Sì Ok Rispetto alla sinistra Dalla bocca frontale Però Tutti i cannoni Delle excelsior Se potete identificare Sono atterrato Signore Agganciatevi In velocità relativa E usate I scarponcini Se no morite Sono entrato signore Dalla bocca Non usate il jetpack Per nessun motivo Ok ragazzi Io sono nella parte Dello scafo inferiore Mi infilo all'interno Della nave Ok sono nella zona motori Che è tipo Inesistente al momento C'è un altro reattore Nella parte superiore Della prova Ok sono sul pannello di controllo Reactors Ce n'è ancora uno Che però è incompleto Allora ci sono delle batterie anche Vediamo Quello che vedete voi Che vedete le hanno Non è un reattore Ci sono 22 batterie Ragazzi c'è un controllo remoto Ok difese disabilitate La nave non è più Non è più attiva Ci sono ancora Molti giroscopi Però se mi confermate Che la nave È stata disattivata La possiamo considerare Catturata Affermati Si sta muovendo Per il movimento inerziale Però è fermo A con i propulsori Per il movimento inerziale Per il movimento inerziale Esatto Ok qua La scuola della sbarco Confermiamo La cattura della nave Fantastico Ammiraglio Possiamo avvicinare In sicurezza Credo di sì Sì Confermo Sì Vi potete Ricevuto Endurance Ricordate di disattivare Le difese L'energia Non sappiamo come controllarla Perché non abbiamo Le batterie Praticamente la nave Sta combattendo Su se stessa A livello di Sistemi interni Quindi ci serve Per forza Un rimorchiatore Ecco Perfetto L'agganciata L'agganciata Accendiamo Il dismortatore di inerzia Endurance Deghiamo gentilmente Di allontanarvi Un pochino Attenticino scopi Attenticino scopi Ci sono Giroscappi In movimento In plancia Cazzo Quello che cercavo Di dire Endurance In allontanamento Ragazzi Operazione riuscita L'abbiamo presa Complimenti Congratulazioni a tutti Ok Ora come la trasportiamo Ammiraglio Visuale Un jump Attivo Attualmente Sulla nave Quindi potrebbe essere Utilizzabile Si trova Sulla Non importa Leon Va bene così Va bene così Abbiamo abbastanza Jump Per jump Tranquillo Prendete tutti i posto Affermati Velocemente perché c'è una Deathship in avvicinamento Comandante Armin A lei Ancora la plancia No no A lei la plancia Salvatore Salvatore Vieni sul mio segno Vabbè Ok Andate prima voi E vi seguiamo Pts Dimmi Managon La voglio avvisare Che Tornando Ammiraglio Vieni vieni 180k di piatto Siamo a meno Della metà Eccoci Occhio Non avviciniamoci Trovate E quelli sono tutti I giroscopi Che avete staccato Dalla base Sì Considero conclusa La sessione di questa sera Dalla base Sì